La curva epidemiologica continua a scendere, aumentano i guariti, ma purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei morti. E' questa la foto che immortala la situazione attuale del coronavirus in Puglia. A scattarla è come sempre il bollettino della regione che segnala relativamente alla giornata di oggi, lunedì 1 giugno, altri quattro casi di positività al covid, tre accertati nella provincia di Bari più un altro in quella di Foggia, che fanno salire a 4.498 il totale dei contagi pugliesi dall'inizio dell'emergenza. Non si aggiorna invece il bollettino dei malati nel resto della regione, compreso il territorio di Barletta Andrea Trani, dove lo zero alla voce nuovi infetti dura ormai da sei giorni consecutivi. Si allunga purtroppo però la lista dei decessi, due i morti registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Bari e in quella di Foggia, per un totale di 506 vittime pugliesi per cause legate al virus. Punta ancora verso il basso anche la curva riferita ai malati che scendono a 1.155 rispetto ai 1.177 di ieri. Degli attuali positivi, 140 sono ricoverati con sintomi, 11 si trovano in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Sempre più confortante, infine, il dato sui pazienti che hanno sconfitto la malattia, sottoccano quota 2.837, altri 24 guariti nelle ultime 24 ore. Ma anche se le notizie sulla diffusione del Covid sono sempre più incoraggianti, la regione non abbassa la guardia e lavora sul fronte della prevenzione. Da oggi è disponibile in Puglia l'app Immuni, l'applicazione per il tracciamento dei contatti che potrebbe rivelarsi un'utile arma contro l'eventuale ritorno della pandemia. I cittadini potranno scaricarla gratuitamente attraverso gli store digitali di Google ed Apple, ma la sperimentazione comincerà materialmente solo mercoledì. In pratica, l'applicazione invierà una notifica alle persone che possono essere entrate in contatto con un caso positivo, informandole della necessità di isolarsi e contattare un medico. Per risultare efficace al suo scopo è necessario che l'app venga utilizzata dal maggior numero di utenti. In Puglia, che è una delle tre regioni italiane ad aver avviato la sperimentazione, si conta che verrà installata da almeno 100.000 persone.